Dai, fai un po' di merenda col cioccolato Ma lo sai che non lo posso mangiare? E per una volta non succede niente Davvero? No Cioè, io dovrei fare merenda con questo Accontentati Ciao a tutti ragazzoni, io sono Fancy Mi ha saziato un sacco quel pezzo di cioccolato Mi manca da morire a mangiare cioccolato Per oggi ragazzi! Visto che siamo in tema cibo e le mie porzioni sono abbastanza ridotte Oggi andremo a vedere per l'appunto dei cibi in miniatura Che però sono anche comestibili Mi sa che la mia dieta dovrà essere questa Bene ragazzi, direi che possiamo partire e andarci a far venire fame Perfetto ragazzi Ed eccoci qua Come possiamo vedere ci troviamo all'interno di una cucina In dimensioni leggermente ridotte Ovviamente che fai? Il cibo in miniatura in una cucina normale? Avrebbe senso Ecco, la prima domanda che mi sorge spontanea è Com'è possibile che stia uscendo dell'acqua Da questo mini rubinetto? Dove c'è anche il lavello? Allora! Io posso anche comprendere che ci sia il cibo in miniatura Si fa leggermente più piccolo Ci sta Ma questo! Ha anche i rubinetti Ragazzi Questa è arte Guardate che cosa stiamo guardando C'è una pentola in miniatura Il cucchiaino in miniatura Ci sono anche i fornelli in miniatura Ok Ragazzi Guardate che roba Ovviamente c'è anche un mini coltellino Con cui tagliare le cipolle È tutto mini in questo video Ci sono anche le finestre Come è fatto? Perché non fai un tutorial dove lo spieghi? Ok Una volta tagliate tutte quante le cipolle C'è anche il mini tagliere Non l'avevo visto Le andiamo a mettere in un mini piattino Ma mi sembra giusto Però più che altro Dove trovi la voglia di stare lì A tagliare tutti questi mini cibi Con questo coltellino minuscolo Che già tenerlo in mano È un'impresa Non si sa come tu faccia Ora sto andando a tagliare anche le carote Vedo che ci sono le patate Quindi dopo dovrà anche andarle a pelare E sono molto curioso Devo essere sincero Ok Cioè È fantastica questa cosa Ma che no Pure il mini panno Per non bruciarti Ma che cosa? Ok Ha già pelato le patate Ora le sta tagliando Quindi per il momento abbiamo cipolla Carote e patate Che cosa uscirà fuori? Lo scopriremo molto presto Sta friggendo Quindi ha messo anche l'olio dentro Fa scassare come la tiene con questo mini panno Che cos'è questo coso che stai utilizzando? Un mini cucchiaio di legno? Immagino molto efficiente Però Per questo tipo di lavoro Penso proprio di sì E a vederlo? Sembra anche buono È una roba incredibile Certo Non ti sazia neanche per sbagliare Che cos'è? Il pollo pure Vabbè ragazzi Allora Come preparazione Non oso immaginare quanto tempo ci voglia Non tanto nel prepararlo Ma andare a tagliare tutto quanto È un casino Cioè sta uscendo come Ha messo anche l'acqua di cottura Per fare tipo il brodino Ma io sto avendo parole No ma è latte questo? Che cosa mi stai narrando? Ragazzi Epicità l'ho stato Quelli Quelli erano spaghetti per caso Non è vera questa cosa Ma come? Io voglio provare a cucinarmi una di queste cose Almeno sono sicuro di non ingrassare Guarda che roba Ma cos'è tipo ramen? In miniatura? Che cosa? No dai Ecco Ora ti voglio vedere a mangiarlo però Basta fare così È finito Però a parte questo Il risultato è una figata Ma Che forchetta è Ma soprattutto Che cucchiai Che cosa stai facendo? Come fai a girare? Ok è la vita Ci stiamo rendendo conto Di quanta epicità In queste immagini Vero? No dai vabbè Come lo gira? Tipo Ah finalmente mangio Sono sazio già Ok Andiamo avanti Con un'altra mini cucina Lui usa le candele Per creare la pianta Probabilmente anche quello di prima Solo che non l'ha fatto vedere Però vabbè Sono dettagli Guarda che roba Ragazzi Sto avendo parole Con mini padellino Ha messo dentro forse l'olio Per fare una frittura Che cos'è? Maionese Oppure Tipo I pancakes Cosa? Ma dai Stava andando tutto bene Si è appiccicato sul pentolino Vabbè dai Si può rimediare immagino Ma come? Ma come fa a uscire così bene? Ma cosa stai dicendo? C'è anche il miele ragazzi Guarda come lo sta mettendo Con quel cosino piccolissimo E quanto un dito Il burro No non sto avendo parole Per dire la mia Non me la sento E' troppo epico Guarda che ha messo il burro sopra Con questo cucchiaino Una mini caraffa E' bellissimo Come fai a mangiarlo? Non capisco Allora è riuscito E' riuscito a creare Il pancake E già qui Non l'ho capito Si è appiccicato purtroppo Sul padellino Ma abbiamo rimediato subito Il colore è perfetto E io me ne intendo Poi lo va a posizionare Su un piattino Gli mette il miele Con un contenitore dolcissimo E così Meraviglioso Per poi mettere anche il burro E mangiarlo Ripeto Immagino che per saziarti Con una cosa del genere Tu debba avere uno stomaco così Quello di un piccione Perché altrimenti La vedo un po' difficile Però è bellissimo Che cos'è questa cosa? Sono uova No vabbè Lo sbattitore è così Come? E soprattutto Quei tuorli erano Un po' troppo piccoli Ma esistono le uova In miniatura Anche qua Utilizza il metodo Delle candele E' super efficiente Fa una fiamma Fantastica E profuma anche l'ambiente Quindi direi che è perfetto L'olio Lo mette col pennellino Giustamente Che fa stavolta la pizza? Che cos'è T'ofrebbe essere quello? Il formaggio L'ha grattugiato Questo E' del pane Ma com'è fatto a farlo? Così No vabbè Ma è peco quello lì Non sto avendo parole Guarda che roba E quelle sono tipo Le uova strapazzate Colazione americana Tantissimo Sta tostando anche il pane Ragazzi stiamo calmi adesso Manteniamo una calma mentale Cosa? Non è vera questa cosa Io mi rifi Il mini tavolino Con le mini sedie Ok Diciamo che sto ammirando Un sacco queste persone Anche solo Andando a creare Questo tavolino Con le sedie La voglia Dove l'hai trovata Poi fammelo sapere Guarda che ero Tre gocce di numero Per riempirlo Io non lo mangerei solo Perché è bello da vedere E perché non mi stazierebbe Un cazzo Però Madonna che figata Negli scorsi episodi Abbiamo visto addirittura La creazione del panino Del mcdonald Va bene ragazzi Io direi di concludere qua Anche perché mi è venuta fame Adesso devo andare a mangiare Qualcosa Fatemi sapere che cosa ne pensate voi Di questi cibi Ma soprattutto Di queste persone Come fanno Però ragazzi Prima di concludere Direi di andare a salutare Francesco Corias Robby Error Anna Modli E Almini Ciao ragazzi E il vincitore di oggi Robby Error Grandissimo E raga mi raccomando Se volete essere salutati Vi basta scrivere un commento divertente Sotto a questo video E inoltre ragazzi Vi ricordo che in descrizione Potrete trovare tutti i link Ai miei social Instagram Facebook Quindi se vi va Andatemi a seguire su Instagram E lasciate un bel mi piace Alla pagina di Facebook E cosa non meno importante Iscrivetevi al canale ragazzi Mi raccomando eh E io direi di darvi l'appuntamento Ad un prossimo episodio Ciao ragazzi